Oggi il mare è verde smeraldo, io sono qui nel ristorante Bolina con la mia amica Maria Grazia Bello. Il panorama è stupendo, siamo a Tricase Porto. Maria Grazia, perché avete scelto di presentare il nostro libro, mio e di Rosanna Precchia, il 28 maggio, quindi domenica 28 maggio alle 18.30, qui nel ristorante Bolina? Che cosa vi ha spinti a farlo? Allora, da sempre, da quando è nato il Bolina, c'è stato un occhio particolare per l'elemento culturale, in particolar modo per ciò che attiene il Salento. Abbiamo sempre ospitato presentazioni di libri, mostre, convinti che questo è sì un bellissimo porto di mare, ma è anche un luogo dove si possa fare cultura. E quindi ci sono state delle rassegne letterarie, abbiamo partecipato a festival letterari, delle mostre, con una grande attenzione al territorio, promuovendo anche eventualmente delle persone che venivano da fuori, che coglievano l'occasione di una vacanza in Salento per promuovere il loro libro, per esempio. Questo posto è dedicato anche alla Via Francigena? Sì, la Via Francigena passa sulla linea di costa, però sono 400-500 metri a piedi, per cui spesso il pellegrino, non solo d'estate ma anche d'inverno, fa questa deviazione, perché si trova di fronte un mare pulitissimo, un porto che nonostante sia un porto, davvero un'acqua trasparente sempre, trova una spiaggia accogliente e anche se magari non sa nuotare, può utilizzare la spiaggia, può lasciare gli zaini qui in custodia, quindi sistemarsi, utilizzare i nostri servizi. E poi c'è anche l'altro servizio del timbro della Francigena. Oltre ai camminatori sulla Francigena, passa proprio dal Trecaseporto il Cammino del Salento, una importante realtà del territorio, creata da ragazze molto intraprendenti che hanno rilanciato il Salento veramente ormai a livello internazionale. E anche i camminatori del Salento trovano qui il loro timbro. E poi abbiamo il menù del Pellegrino, che assaggia poi, il Pellegrino assaggia le particolarità nostre. E siamo stati primi a proporre qui da noi il menù del Pellegrino a prezzi più calmerati, oltre ad avere una scontistica magari anche su altro. Quindi un'accoglienza tutto tondo, questa che il Bolina offre. Grazie. Ma come si mangia il Bolina? Andiamo a vedere? Wow! E come si chiama questo piatto? Questi sono i troccoli pogliesi e i frutti di mare. Dai, fantastico! È tutto per noi? Sì. Vediamo, vediamo. Ah, ecco il nostro tavolo vista mare. Ta-tan! Pronto per essere gustato. Ecco il nostro tavolo vista mare.